Allora, buonasera Marco Minniti Cosa fa? Allora, buonasera Marco Minniti Allora, dal PD si è dimesso il segretario Martina Ecco, io volevo chiederle Non faccia cose strane No, volevo chiederle Ma ci vedeva un suggerimento Gli dà un suggerimento? Ci vedeva sempre mia madre Sì E cioè non dire mai a Marco Sì Di non fare una cosa Sì, no, però io volevo solo Perché lui, quello In quel momento in cui lui la fa E quindi, scusi Per cui se lei vuole Sì Che io risponda alle domande Lei non deve farmele E cosa faccio però, scusi, perché non No Cosa Scusi Minniti Io cosa faccio se non posso fare Stia buono con te Lei guardi Marco Sì Conostentata l'indifferenza Sì Come dire, non voglio sapere cosa pensa Marco No, ma invece io Meglio ancora se si alza e inizia a fischiettare pasteggiando Mani in tasca tutto impettito No, ma scusi, ma io Ma cosa risponde se non le faccio la domanda però? Cioè, va bene? Io Marco lo conosco molto bene Guardi, funziona Guardi che lei Faccia un cruciverba se vuole Si tagli le unghie dei piedi Ma che mita No, ma come fa a rispondermi se non sa La cosa stia buono però Cioè, come fa a rispondermi se non sa cosa voglio chiederle? Le racconto la trama di un film Ma no, ma non Age of Ultron degli Avengers Ma non ci interessa Non credo che interessi la trama Scusi, cosa sta facendo? Abbiamo capito che Age of Ultron degli Avengers È un film bellissimo Ma non ci interessa la trama di C'è Scarlett C'è Scarlett C'è Scarlett Che ha il potere di entrare nel cervello di Hulk Bene Va bene, va bene Sì, questo è Perché quando Bruce Banner non è ancora Hulk Ma non ci interessa È difficile entrargli nella testa Va bene, ma Perché adesso Perché Bruce Banner è un fisico nucleare Non lo sappiamo Che è diventato Hulk Proprio perché ha fatto un esperimento Contro i raggi Kama Sì, va bene Questa è la storia di Non lasciamo mai i raggi Kama alla testa Ma lasciamogli lì anche Ma quando Bruce si trasforma in Hulk Si diventa un bambinone Sì E Si fa Inizia a spaccare tutto come in una cristalleria Sì Ma perché fa così? Ma io non capisco cosa voglio dire E' semplicissimo Questo paese non ha bisogno di Hulk E spacca tutto Ah, ok Ma c'è più bisogno di Scarlett Ah, va bene Che entri nel cervello della gente E capisca i loro Sì Bisogni Ma perché fa sta roba? Non è un supereroe Perché vede, quando io facevo il ministro Con decreto sicurezza E questo E ovviamente scettare i bisogni della gente Stia caldo, stia buono Come Scarlett Sì Va bene, allora senta Provo a interpretare Lei sta dicendo Che si candida Perché è in grado di intercettare I bisogni della gente Come un supereroe Questo Sta dicendo Non dica mai A Marco Che è un supereroe No, no Ma non mi passa neanche per la testa Perché quello è il momento In cui Marco non lo fa Ma infatti non deve farlo il supereroe Si mette a fare il ciabattino Vabbè, adesso non dico di fare il ciabattino Le racconto un episodio Sì Della mia gioventù Eravamo al liceo Tutti noi supereroi Lei con i supereroi C'eravamo io Clark Kent La torcia umana Zagor E dietro lui Tutti gli Avengers Ma chi? C'era Thor C'era Iron Man Thor col martello C'era Charlie Brown Tutto impettito Charlie Hebdo Il cane Snoopy Il gatto Il topo L'erbante Non mancava a nessuno Ma infatti Mi sembra più Quando c'è sto punto Il professore Tutto impettito Sì Tutti impettito Ci dà una versione di greco Particolarmente impegnata Ok Gli hanno dato una versione Tutti si mettono a fare La versione di greco Sì Tutti i suoi compagni La finiscono in dieci minuti Va bene Ma Marco Eh Non la fa Ah Non la fa Tutti a dire Marco fai questa versione Eh sì perché Sennò poi la bocciano Ma Marco Niente Ah già tutte le volte Marco quando gli si dice Di fare una cosa Marco non la fa E va bene Marco ha rifatto la seconda Liceo per quattro volte Eh beh certo Se non fa le versioni Però io Adesso va bene tutto Abbiamo capito Sì Stia calmo Ministro Sì ex ministro Voglio dire No però Adesso va tutto bene C'ha anche le frecce No però Non si capisce Adesso per chiudere Si candida O non si candida Perché poi Cosa fa? Col mio super udito Sento un grido In lontananza Ma non ce l'ha E la democrazia È in pericolo Ah vabbè Vado chiaramente Che mi invoca La democrazia Di essere salvata Ah ok Allora si candida No No Oh vabbè Vede purtroppo Consensi dalla sinistra Dalla sinistra Alla destra Ma perché? Perché la destra Non me l'ha chiesto Ah ecco perché Ah certo Quando ero ministro Dell'interno Tutti mi chiedevano Di fare una politica Di sinistra E io ho fatto Una politica Di destra Ecco ma quindi Adesso se le chiedono Di fare una politica Di destra Farei comunque Una politica Di destra Ma perché? T'è stardo No perché sono Un super eroe Del cazzo Andrea Tavone